100 milioni di metri cubi di acqua persi nel giro di un mese. Si aggrava l'emergenza siccità in Sardegna. Gli invasi sono sempre più vuoti, secondo il dato relativo al 30 giugno. Nel giro di un mese il tasso di riempimento è calato di oltre 5 punti percentuali, dal 62,8% al 57,4%. L'estate, sul fronte delle utenze residenziali e turistiche, dovrebbe essere salva, ma lo stop all'irrigazione è già arrivato nei campi del distretto di Posada, dove il bacino di Maccheroni si è al 26,8% di portata, e nelle campagne di Torpesi, Niscola, Budoni e San Teodoro. La grande sete colpisce anche il sud-est dell'isola, con alcuni comuni che hanno già dichiarato lo stato di calamità naturale. A salvarsi, secondo i dati dell'autorità di bacino, la Gallura, con l'invaso dell'Iscia che segna ancora valori positivi, 71,7%, la zona del Tirso, 85,8%, e le dighe sul Flumendosa, tra il 63 e l'80%, queste ultime interconnesse tra loro e quindi con una maggiore capacità di accumulo. La Giunta regionale ha destinato nei giorni scorsi 4,5 milioni di euro per l'acquisto di mezzi di protezione civile, soprattutto per potenziare il sistema di approvvigionamento idrico, fornendo servizi di trasporto acqua per l'assistenza alla popolazione e alle attività agropastorali o di supporto alla lotta contro gli incendi boschivi. Innanzitutto riconoscere in tempi certi quelle che sono le risorse per indenizzare le nostre aziende che hanno avuto perdite rispetto a quella che è la produzione. L'altro aspetto è progettare per rendere interconnessi i vari bacini, per fare in modo che una parte importante della Sardegna non rimanga isolata così come lo è stato in passato e oggi nel presente ci rendiamo conto che non è stata sviluppata progettazione adeguata in quelle aree della Sardegna, in particolare la Sardegna centrale, quindi la diga del Maccheronis. Per il resto è un'estate all'insegna della Sette, tutti gli altri bacini sono a livello di pericolo che impone una minore erogazione dell'acqua prima per le campagne e poi per l'idropotabile.